Musica Ok ragazzi siamo qui su diciamo un nuovo Io volevo iniziare una nuova serie su Dark Souls 2 Si cioè ok lo stanno a fare un po' tutti Nel senso avevo quei due sul server Io Tobi che già avevo fatto Dark Souls 1 Però io per dirvi l'ho finito tutto Dark Souls 1 Quindi il 2 magari qualcosa vediamo insomma Ci posso capire qualcosa Vorrei iniziare sto gioco perché sono Credo masochista forse Boh non lo so Vediamoci la intro dai Non male Alberto dovrebbe iniziare un'altra serie Non so se Dark Souls 1 o qualche altro gioco Qualcuno è morto Bene Sto giocando con... Oh figo Non è così la grafica Però insomma Sto giocando con il joystick Con tutti i driver Che vuol dire? Lo spieghi? Curse Oddio 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 Metti i brividi Ciao Un'anza 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 Mamma mia che brutta Ok basta primo piano da questa Credo sia meglio che chiudo la finestra Sì Vi lascio vedere il video Grazie Come un moth Tra un flamso Tuoi vengono In angucia Ok direi che fa anche abbastanza schifo Ma che merda Non cadere Non cadere No 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 Eh ferrocio Eh c Eh sei un coglione Comunque C'è abbastanza spinto come inizio Si presenta molto bene Molto molto bene Bene Oh c'è di nuovo la titanite Ciao Eh però c'è la grafica comunque non fa schifo Eh Very very good Meglio Sicuramente molto meglio dell'1 Anche se è comunque un po' Un po' Un po' compenetrante col pavimento Oh Che cazzo Ok vediamo se mi ricordo i comandi Ci si muove Cazzotto Destro e sinistro Un po' Cazzottone forte E Ecco questo qua si Si schiva Perfetto Poi Si rotola Non c'ho vita Non c'ho niente Uno schermo gigante così Ok Allora allora Qui Boh Qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa Ok Impronte Si C'è qualcuno Inizia decisamente male questo gioco Ma che cazzo Oh buono No fammi ci Vabbè però è un pippacchione Un veri veri pippacchius Ma come segue Pippacchione Ah ma inizia così Ok Toc toc Chi è? Minchia cioè Facilissimo In quel momento sembra Easy Sto cazzo Ehm Oh tu nonna Ma che c'è? Sembra che sia il tizio ebreo Che tutti schivano in classe Boh Vabbè Tu cazzo ridono Vabbè Sto cazzo No è già arrivato il momento di scrivere il nome del nostro personaggio Allora io opterei Per qualcosa di Non so Allora I possibili nomi sono Al primo posto Quadricipide Ehm Al secondo posto Mmm Scavolini Però se si chiama scavolini dobbiamo fare un tank Perché è una cucina insomma Ok sì Ehm Al terzo posto Sto cazzo Non lo so Non lo so Io direi Direi il quarto posto Pappardello Mamma mia signori Pappardello Sì tutta la vita Vai Pappardello Sì sì Mamma mia Ma dai Mi sono dato della cicciona Oh Classe dono Classe Allora Oddio che brutto Cavaliere Allora Guerriero segnato alle battaglie buona forza e destrezza abile con le armi Mh Ehm È bruttissimo No questo mai Lancia segnati Utilizzando l'intelligenza e la volontà Cavaliere Cavaliere direi Quello che è Sì sì Cavaliere Dono Niente Non è virtuale Feggio umana Kit curativo Osso del ritorno Seme di albero dei giganti Falò ascetico Lancia una nefano Per potenziare i nemici circostanti Sfida ancora più Cosa? È da matti questo Questo è da matti Corporatura Oddio è bellissimo No oppure Tipo o snellissimo Tipo così Oppure Così Mamma mia No 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 snellissimo Fisico Dai pompato Pompato va bene Aspetto Bunga 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 No 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 Capelli Questi qua sono La Goku Alla Goten bambino Oddio che brutto Questi No te prego Mi consenta Questo questo Colore capelli Eccolo qua Questo No Aspetta Così Dai così già si può fare Mamma mia Raga è lui è lui È lui È lui E' lui Non si stupisce di aver davanti a te uno fatto così Ok quindi siamo qua noi Zoro e tu Calo di framerate Impossibile Ok Ok Si apri Che cosa c'è? Effigie umana Non so un cazzo Mi aiutate nei commenti Please Please Pleaseissimo Pleaseissimo Aiutatemi nei commenti Please Un falò Ti amo falò Acceso Oh che bella la scritta falò acceso Brucia Non è la trasformazione estricata Inoltre se bruciano il falò Ebolisce il legame con gli altri mondi Prendendo le invasioni in buona parte della collaborazione Se te la tenuta una figlia diventerà a percepire una forma umana a seconda della persona che la guarda Ok Cassa oggetti Si Ok Farò se non mi riposo Può anche usare per accendere le torce Oh che cazzo di mega carro è Torcia Tolgo il mouse che potrebbe rompere i coglioni Ebbè Ebbè signori Ho nascosto l'interfaccia Vabbè ok Mo però La torcia Io ho preso una torcia Ah forse se vado qua Posso fare tipo Torcia o qualcosa Posso? Posso? Brucia No Non volevo fare questo Ah ma io sono già un mezzo non morto Vero? Che cosa vuol dire? Che già c'è un boss No Per chi non lo sapesse In Dark Souls La nebbia indica Un boss Una zona che prima era bloccata E ora Non più Pippa Sei una pippa Pippa Ah e si cosa I mostri iniziali Per farti Capire quanto sei forte E poi Ti rompono Tutte le 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 aspettative Ho dato un'ospedalla Perché pensavo Che c'era una porta nascosta Si sa mai Oh ciao Ok Sembra Tranquifunky Io zitto mai Però stavolta lo posso uccidere Spero Ciao Ah questi finora Sono tutti relativamente Semplici Come mostri Ah qua potevo accendere Vabbè Oh c'è un tipo morto Pugnale Può interessare Fa più schifo di questa Eh Si Però il fatto che ce la possa Eh Oh Ah magari posso alternare tra Attacco veloce E attacco Eh beh beh Non male Non male Ok Qui c'è la salita Idiota Io chiamo Chiamasi Idiotaggine 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 Ah Stop Ok 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 Iniziano ad avere delle armi Azzo Ha schivato dopo mezz'ora Ok Fino a qua ci siamo Gemma vitale Ok Che cazzo è la gemma vitale Aiuto Ok Aspettate un attimo Io mi devo soffiare il naso Non ci sono fazzoletti Oddio morirò Si me lo sento Si me lo sento Allora là si va da qualche parte Ma che cazzo Nope 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 Ma che Dai calci alle scale Sei idiota Mamma mia Giù Oddio 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 Spettacolo Premendo il cerchio Tenendo premuto il cerchio Oh no Qua c'è un'altra nebbia però La pure Ma quante nebbie ci sono Dove inizi a scegliere dove andare La La che cosa c'è Ah Ah Ho capito Ho capito Quindi Quindi io ho scelto quella Cioè quella strada E quindi qua c'è un'altra strada Tipo quella Ah solo che inizionasse un po' più forti tutti Ho capito Vabbè non era tanto difficile Ho capito Oh questo è forte Non è vero un cazzo Qui non c'è niente Lì Ok Via Cosa Ho una scala Fammi salire sulla scala Che andrà tutto bene Ne sono sicuro Yeee Viva le scale Yeee Ah Quando cazzo mi ricapita No Aspetta ma dove Dove sono Dove sono finito Cosa c'è qua Ok Globo dell'occhio rosso Perché Perché vedi Quando tu finisci un gioco Tipo Dark Souls Sai già tutto No Dici Ah vedi Poi quello là Serviva a quello Che faceva quello Ma quasi passa di qua Invece quando devi Scoprire nuovi giochi Perché questo qua Cioè raga Completamente Una cosa mistica Per me Perché non ho visto Manco mezzo video Di gente che ci giocava Quindi Figuratevi E Quindi Non sai proprio Che cosa ti può aspettare Oltre La nebbia E la porta Quindi Raggiù c'era quello Io ero entrato qua Non ho ancora finito questa Allora Il mio personaggio Non sa saltare Ok Ah ma io sto Piano piano Diventando un non morto Porca puttana Ladra Di tua mamma Vero Fai vedere la faccia E Ok Quindi io dovrei andare là Per prendere cosa Cosa Mamma mia Queste cia Ma perché Basta Io non piglio quello Che sta là Non me ne frega Proprio niente Niente Perché Cioè Mo sono morto già due volte Mi sembra che Vabbè C'è una cosa imparziale Stiga Però vabbè Spero solo che Anacerta Non Te scoppia il culo Insomma Cosa c'è Stas Altra Leggente Da amazar Da matar Fai cadere Ok Con un calcio Tu Putti giù Un albero Che poi ti Regge il peso Con un calcio Tu hai proprio Rotto il cazzo Ok Nope E invece Yes E c'era la scala Il solito Demente Ho visto una freccia Possible È possible Sì cazzo Madonna In testa Mi ha preso Che cosa fa questa Dimmi che mi dà vita Cazzo Se mi dà vita Sali 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 Mamma mia Quanto cazzo Sei lento Eh Che culo Che ti ha detto Zio Zà 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 Tamato Tamato Tomato Te Te Come si diceva in spagnolo Te Temato Ciao Mamma mia Il sabato sera Eh Il sabato sera Poi come cazzo state Mortaccio E laggiù C'è un piccolo elefantino Selvagio Qualcuno Gli vado a dare una mano Insomma Ciao elefantino Tutto a posto Oh 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 No No Non funziona così la vita No No Noissimo Noissimo Noissimissimo No proprio No No Sono morto Con la velocità Di un Non lo so Ma che cazzo E chi li uccide A quelli Ciao zio Sì mo Io però Sicuro C'ho le anni Eccola Ce ne deve sta un altro Qua allora Perché è spuntato Così dal nulla Ma non è vero Ma non è vero Ho perso le anime Potesse Tu madre Bufala Io però Non so come si va avanti Ora Capito Capisci Io Io Cioè Tu che stai guardando Questo video Io Non Come faccio Come Wow Ma va Fanculo Vabbè Regà Siamo qui Io e lo zio Fester Qua Cicciopelato Qua Che brutto Quindi Se il video Vi è piaciuto Fatemelo sapere Con un commento Dite me Sì Sì Continua Così almeno capisco che vi piace Se no smetto di farli I video così in solitario E li faccio solo con Alberto E Se vi scappa Lasciate pure sto mi piace Così sempre Vedete la storia Del fammi capire Che il video vi è piaciuto Blah 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 E niente Ci vediamo al prossimo episodio Di Dark Souls Shouts Sì Sì